Ciao a tutti sono Denis Cappellin, di solito nei miei video mi trovate in ambienti montani collinari per praticare quello che di solito faccio che è lo speedy, oggi invece è totalmente diverso cambiamo, oggi ho deciso di venire a Verona e di provare una corsa, una corsa forse è un po' troppo facendo un anello che parte dal cimitero monumentale che vedete alle mie spalle e che percorrerà tutti i ponti di Verona, è una cosa un po' insolita però mi piaceva anche un po' cambiare quella che è la mia routine del fine settimana, quindi a questo punto se voi siete pronti io sono pronto quindi andiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti